Sono Maria Gelbi, architetto, dottore di ricerca e ricercatore in composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università della Campania Vambitelli e oggi ho il piacere e l'occasione di raccontarmi e mostrarvi un po' chi sono e di cosa mi occupo negli ultimi tempi. Quando fui invitata da Luca Molinari a scrivere sulla next generation o come preferisco chiamare eco boomers perché in fondo siamo un eco, un riflesso di qualcosa di ben fondato avvenuto anni prima, il principio il pensiero si è spostato sull'uso e l'importanza delle parole perché in fondo le parole sono profondamente necessarie, indispensabili sia per fissare un concetto che per renderlo chiaro, immediato e palisi e tutti e soprattutto sono indispensabili per chi fa architettura e si occupa di architettura. Tanti maestri del passato, dalle corvosie, Aldo Rossi, Robert Venturi o lo stesso Rencolas, un pochino più vicino a noi in un certo qual modo, non hanno comunque mai abbandonato la scrittura per rafforzare e difendere le proprie idee e pensieri e nel mio caso specifico disegnare e raccontare il mio pensiero attraverso il disegno di idee e la costruzione di immagini diventa poi un'operazione inscendibile. Da quell'invito comunque, da quel preciso momento non ho potuto e non ho fatto altro che pensare all'esistenza o meno di una parola migliore che potesse condensare tutto ciò che noi co-boomers in fondo siamo e ho cercato questa unica parola per diverso tempo ma il senso è ciò che volevo esprimerso e spiegasse nel profondo tutti quei caratteri e le sfumature di una generazione che si confronta con problematiche tanto sottili quanto diverse ebbene attraverso l'utilizzo di una parola che già esistesse nel nostro vocabolario io non l'ho trovato perché in fondo noi siamo la generazione del confronto costante che porta sulle spalle il peso del passato, siamo la generazione che è costretta da sempre a privazioni, a costruire le proprie idee su necessità intangibili e difficili da afferrare, dove in un arco temporale brevissimo già negli ultimi e soli trent'anni è cambiato tutto e ci siamo trovati di fronte allo specchio un mondo in cui risorse, speranze e la possibilità di credere in un futuro migliore in fondo ci è stato letteralmente negato. Per questo motivo nasce al fura, un termine che ho nato ad hoc e che credo sia l'unico davvero efficace e capace di unire insieme tutte le questioni legate alla generazione Y e al tema dell'alfa primativo, dove parlare di un'architettura sociale, critica atemporale, asimmetrica, tarattica, polide, sembra suggerire temi con i quali definire le tracce per la costruzione di un manifesto formale su cui fondare i parametri oggettivi e forse il credo generativo e creativo di questa generazione. Generazione che ora si trova di fronte a un'altra emergenza, forse la più grande svolta epocale che ci pone davanti a tanti ed enormi interrogativi su cosa sarà l'architettura di oggi e il mondo di domani in relazione al frangente Covid-19, dove di colpo ci siamo trovati ad essere privati anche della nostra più grande arma, la nostra libertà, sia fisica che spirituale. E l'immagine che vedete testimonia questo passaggio, dove in un tempo brevissimo siamo passati dal vivere tutti insieme il corpo della città, che è la nostra vera casa, il posto in cui sentirsi sicuri e padroni di noi stessi, e ci siamo dovuti adattare rapidamente a una chiusura, che vede il ritorno della casa, luogo mai troppo significativo per noi animali sociali, come amava definire l'uomo il buon Aristotele, e nel quale la next generation ha sempre cercato di prendere le giuste distanze, sia per affermare la propria autonomia che la propria essenza nel mondo. E in questo scenario intermedio siamo passati a finire poi un altro scenario, in cui l'unica salvezza è porre la giusta, pur non sapendo realmente quale fosse questa giusta distanza tra noi e il diverso da noi, le persone, le cose e tutto ciò che ci circonda. La casa sembra ritornare al centro del tema fondante dei pensieri riguardanti l'architettura. Ebbene, già da prima che tutto questo accadesse in virtù di interessi e passioni legate anche ad alcune questioni o a panorami dell'architettura che nel mio percorso di ricerca e studio mi accompagnano da tempo, il riflettere su una nuova dimensione realtà domestica in funzione al vero senso e significato di abitare lo spazio della casa oggi, sempre rappresentato una delle necessità più importanti sulle quali porre il giusto sguardo poi nell'immediato futuro. Per questo credo che ripartire da una considerazione sostanziale e provare a dare delle risposte a ciò che rappresenta il senso di abitare oggi, sia la città che la casa, in relazione alla sua creatura più piccola ed essenziale, pare porre il noccio della questione su un punto sostanziale e cruciale nei processi sia compositivi che generativi, che per la sua autonomia o per la sua capacità all'occasione di essere flessibile e facilmente adattabile alle necessità più disparate in un certo qual modo vede nella stanza una particella, una parte cruciale capace di riassumere in questo senso riflessioni sull'abitare contemporaneo sulle quali costruire poi un nuovo pensiero e l'immagine di una domesticità e di conseguenza di una nuova città, di una nuova forma di città. Pensare quindi alla città come un organismo costruito dall'addizione di parti e soprattutto vedere il suo essere un corpo unico formato dalla sovrapposizione o giusta posizione di case su case e vedere come la stessa casa possa poi trasformarsi nel racconto di una commissione di parti più piccole fatte da elementi primitivi e intuitivi con i quali mettere in forma il panorama di un'architettura semplice, allo stesso tempo complessa, che è in grado poi di riflettere il mille spaccettatore della contemporaneità, diventa nel 2018 un dizionario, la mia seconda monografia, un volume che si basa sull'analisi del corpo di quella che definisco casa struttura, vista come un prodotto composto dalla fusione di tre strati e livelli che nel legame tra le sue parti trova forza e fondamento e la capacità di costruire scenari adattabili ad alta performance e utili per la costruzione del mondo dell'uomo di domani. Quelle che vedete scorrere infatti sono alcune estratti e pagine di questo lavoro di ricerca che mostrano quanto forte sia il legame tra elementi primitivi e primari ed elementi intuitivi e secondari con i quali poi l'architettura contemporanea costruisce i propri spazi e i suoi spazi da abitare. e col passare del tempo poi, perché la mia è una ricerca applicata al progetto, cercando anche di prendere un po' le distanze da me stessa come farebbe un buon analista ogni tanto ci vuole, i miei lavori e progetti alla fine hanno tutti un filo conduttore dove l'immagine di partenza generativa che si tratti di riqualificazione urbana o di spazi dedicati ad attività commerciali o ad altro partono sempre dalla possibilità di prefigurare scenari in cui ritrovare una nuova forma di domesticità condivisa. Quelle che vedete sono alcune immagini di progetti e partecipazioni a concorsi internazionali o mostre nei quali questo tema alla fine ritorna, forse anche nel ricordo di alcuni autori o libri che nel profondo ho tanto amato e che in maniera silente molto spesso, quasi come un automatismo inconscio, hanno fatto e hanno composto immagini che ritornano. Mi vengono alla mente la poetica dello spazio di Gaston Bocelaro, la modernità liquida di Bowman. Queste ultime immagini soprattutto racchiudono l'assenza di un lavoro di ricerca in corso dove continuo sempre in perterrite a riflettere sul tema della stanza e sulla sua preziosità nella costruzione di una definizione possibile per un nuovo scenario urbano nel quale raccontare uno spazio domestico, un continuo mutamento che mi piace un po' definire dorum, un qualcosa che sintetizzi in un certo qual modo il passaggio da Domus a Rum avvenuto in maniera silente negli anni e che oggi più di ieri plasma il racconto di ciò che significa abitare la casa e la città. Grazie.